Buongiorno alle ascoltatrici e gli ascoltatori di Crystal Radio e di Good Morning Milano e buongiorno a Fabio e a Lorenzo, come state? Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, Good Morning Milano, dalle 7 alle 9 su Crystal Radio Buongiorno amici sportivi, buongiorno a tutti Il Morning Show di Milano Che bella mattinata Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti gli ascoltatori Buongiorno a tutti Buongiorno a tutti gli ascoltatori Good Morning Milano, dalle 7 alle 9 su Crystal Radio